La situazione sta degenerando Prova le parrucche e non so per che cosa Bello, eh? Bianche & Maggie No, chi so? Bianche & Maggie Oh, venite qua Bianche & Maggie Bianche & Maggie, sì Non vi dico lo studio come è diventato Era uno studio, adesso non lo so E' la mia faccia Oh, sembra un barponcino io Voglio parlare Ciao Francesco Sento dire il cognome Annaccia Aspetta Ciao Jack si gira Eccola col mantello Super intendo a squagliare il nero Ci riuscirà? Ci riuscirà Ci riusciranno i nostri eroi a salvare il nero? Non so di marshmallow Ma che so? Sì In tutto ciò io non l'avevo registrato No, veramente Ripresentiamo la cucina dove la nostra Deppi Ma non l'ho presentata! Dove la nostra Deppi sta mangiando le caramelle che la stagione Eccola 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 Avvolgi Di Pugliano E in pratica Siamo arrivati Lei con il telefono in mano Ho fatto visto che la signora non mi risponde Emo ci mandi il messaggio Quindi mi stava accostando Lei mi ha visto mettermi al lato Andare vicino al muro Si credeva che io stavo sbattendo al muro Eccola Ha fatto lì Ho detto Ma non la pepe E ha detto ma che fai? Vabbè niente Comunque è pericoloso Che i cellulari in mano Posate Non ti fa occhi Bocca Non lo so Se faci quello che ti pare Non ce la prendo No, fa lì Sabrina lo sta disegnando E gli fanno schifo i ragni Ma non è una cosa Ma quando non si fa il ragno Ma quando non si fa il ragno Però è stata fatta oggi Ma fatta la palina Ma fatta la palina Per me o tonno Fai otto palle Otto puntine Uh Ciao Ma perché devo si tratteremo no? Fai del redino in destra E per un po' puo' il giro Mi metto sempre l'auricolare Sono una persona seria Ecco Usate gli auricolari eh Però ho un orecchio Non tutte e due Se no ti fanno la multa Ma non so Ma hai metto uno Perché due mi danno fastidio Mi faccia sottordi Non dobbiamo ancora arrivare Niente C'è il picchio Tommi Vai va via Oh 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 Grazie a tutti.